Ciao a tutti, popolo del tubo e bentornati sulla Old Stream Farm. È un pochino che mancavamo dalla Old Stream Farm perché comunque è uscita l'Hoffberg, cioè è uscita l'Hoffberg, ma sono diventato sostenitore del team e quindi ho avuto accesso alla beta, all'anteprima beta, perciò i piani sono stati un po' scombussolati. Ma adesso cerchiamo insomma di ritornare anche qui sulla nostra Old Stream Farm perché secondo me questa serie, questa mappa, c'è ancora delle cose da offrire. Non è ancora arrivato il momentino di chiudere la serie, secondo me. Eravamo rimasti qua, qua, dove stiamo raccogliendo il fieno, abbiamo fatto fienaggione, non ho più portato nemmeno in live sta mappa, quindi ci ho avuto tanto, tanto, tanto da fare sulla off e stiamo indietro coi lavori, perciò stiamo raccogliendo fieno. Prima di proseguire oltre, fatemi sempre ricordare le cose che per il canale sono fondamentali, per la gente che non capisce questo lavoro, non capisce quanto sia importante il supporto dei follower, questo è il momento noioso, ma invece è un momento molto molto importante per chi invece capisce le problematiche e i bisogni di questo mestiere. Quindi vi volevo dire che in descrizione c'è l'altra mia piattaforma, dove sono in live tutte le mattine alle 11, tutte le sere alle 20 e 30, se avete Amazon Prime potete venirmi a sostenere gratis con un abbonamento. E poi c'è il tastino Super Grazie, che vi permette di offrire un caffettino al canale e aiutarlo e sostenerlo se volete, se mi ritenete meritevole di questo. Nella giornata di ieri, nella giornata di ieri, mi hanno offerto il loro caffettino Federio Commissari, Gabriele De Simone, Giampi Magara, Paolo Rossi e Vincenzo Carratta. Grazie ragazzi, perché per me il vostro sostegno è importantissimo. Grazie, 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 grazie. Soprattutto in questo periodo, dove ovviamente c'è nel periodo estivo, nel periodo così, c'è sempre un calo di visual agli streamer e quindi mai come adesso gli streamer, io parlo in generale, hanno bisogno del vostro aiuto e del vostro supporto. Grazie, 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 amici di cuore. Adesso faccio questo viaggettino qua e poi vediamo quello che c'è da fare sui vari campi. Siamo a ottobre, vediamo se c'è qualcosa da seminare a ottobre. C'è pure da vendere un po' di roba qua, c'è pure da vendere un po' di robina, la solita farina qua da portare alla pasteria, alla pasteria. Ok, scarichiamo. Abbemum scaricamentum defienum, scaricamentum defienum. Qui intanto non si capisce niente con i vigneti, con la precision, ci si capirà mai niente. Allora, a ottobre, che stiamo a ottobre? A ottobre si semina frumento e orzo, ma credo che li abbiamo già seminati o no? No che non li abbiamo già seminati. No che non li abbiamo già seminati. De qua che c'è? Che c'è de qua? Eh sì, l'abbiamo già seminato. L'abbiamo già seminato il mese scorso a settembre. Quindi sto mese si semina una cippa, ragazzi. Si semina una cippetta. Veramente una cippetta. Vermont, Vermont, Vermont. L'amore nel Vermont. Allora, oggi io vorrei fare un altro investimento grosso e folle. Ovvero vorrei buttare giù la composter, la compost master, cioè la fabbrichetta per fare il compost. È una mod che c'è sia su console sia su pc e dovrebbe fruttarmi tanti bei soldini. Non so dove metterla però, non so dove metterla perché devo dire che è abbastanza grande. È abbastanza grossa. Adesso ve la faccio vedere. Costruzioni, edifici e soprattutto vuole un suo punto vendita. Vuole un suo punto vendita che è il wool sale. Io in descrizione vi lascio sia la mod, quindi che si chiama composter, sia il punto vendita per vendere il pallet, il pellet, insomma. No, il pellet, la, 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 che pellet, come si chiama, per vendere il, il compost. Scusate, ero un attimino distratto perché stavo guardando queste aggiunte di questa mod qua. Perché sto, 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 sto BGA qui hanno aggiunto, vedete, pure delle cose per, per il, il, il biogas, per il, io quasi quasi l'aggiungo, quasi quasi l'aggiungo, ragazzi, l'aggiungo, perché l'aggiungo qua, l'aggiungo qua, ragazzi. L'aggiungo qua e poi andiamo a vedere di cosa si tratta. Stavo dicendo, stavo dicendo, la composter è questa qua, costa 90.000 euro, quindi 90.000 euro solo di composter e per quanto riguarda il punto vendita 100.000 euro, quindi 200.000 euro solo per questo investimento qua, ragazzi. Io stavo pensando, ma se vendo sta zona qua, magari compro qui, no, ma non me c'entra. Ragazzi, devo capire qua, in quale zona posso mettere tutta sta roba. Eh, qui, questo è un grande investimento, ragazzi, perché qua bisogna comprare un altro campo. Casomai compro questo, il campo 30, ma mi sa che è troppo in discesa il campo 30. Eh, ragazzi, bisognerebbe comprare un campo il più piano possibile. Questo, il 35, il 35, vediamo quanto mi costa il campo 35, così prendiamo tutto un debito. Un super mega debito, tanto un po' di debito l'avevo già restituito. Eh, campo 35, che mi costerebbe, eh, 84.000 euro. Quindi 300.000 euro, 300.000 euro di debito e vai. Eh, vedete, abbiamo 240.000 euro per il momento di debito. Eh, mi servono 300.000 euro, ragazzi, non ci so, non ci so cose che... Vai, andiamo a più di 500, a 600.000 euro di debito siamo tornati. Quindi adesso compriamo il campo 35. Meno male che, insomma, beh, non male con le produzioni, tutto quanto, ce lo ripaghiamo. Campo 35. Adesso fatemi spawnare qua, così vado sul mio nuovo campo. Campo, andiamo a vedere il nostro nuovo campo. Spero di aver fatto bene a comprare quello, perché mi pare quello più piano. Quello più in piano. A vederlo. Vedete? Mi sembra abbastanza in pianotto. Eccolo qui, mi sembra in pianotto. Abbastanza. Adesso salvo, perché se faccio casino con l'editor, così abbiamo la possibilità di tornare indietro. E mettiamo tutto qua. Mettiamo, facciamo tutta una zona compost. Mettiamo produzione e punto vendita, tutto insieme. Quindi, mettiamo la, questa la mettiamo qui nella zona più, della zona, mamma mia. Mamma mia, insomma. Allora, facciamo una cosa. Porca miseria che ho fatto. L'ho buttato giù così, me so sbagliato. Porca miseria. Ma se lo rivendo me li ridà a 92.000 euro? Ho perso 2.000 euro. Sì, mi ha ridato i soldi, ma ho perso un po' dei soldi, raga. Ho perso un po' dei soldi. Ma porca miseria. Alta F4. Riechimi, raga. Avevo salvato. Avevo salvato. Mi serve la mod dello spianamento. Che mi salva sempre la vita, sta mod, raga. Possiamo dirlo? Che sta mod mi salva sempre la vita. Lo possiamo dire? Allora, spianamento piccoletto, spianamento piccoletto. Allora, ragazzi, bello. Mi piace vedere che la mod si bugga. Allora, come possiamo spianare qua? Cioè, da dove iniziamo? Per non fare una cosa troppo schifosa, troppo brutta. O iniziamo da qua, spianamo per lungo. Vediamo un po'. Questa è troppo piccola. Questa è troppo grossa. Una via de mezzo. Una via de mezzo. Però ho paura e così. Porca miseria. Ho paura che mi fai i danni. Paura che mi fai i danni. Spianamo così con sta via de mezzo qua. Che dite? Poi ci mette mermuro. Male che fa? Ci mette mermuro, raga. Che dove mo' fa? Ci mette mermuro. Allora, demolisci. Ok. Che ha fatto lo scalino qui? No, no. Poi qua ci mette mermuro. Qua dovrebbe farlo per lungo, possibilmente. Così. Ecco, vedete? Così. Così. A posto. Mi piaci così. Mi piaci. Demolisci. Ho fatto. Ah, ho fatto l'entrata. Mi piace così. Ho fatto l'entrata. Bella. Bella. Ho fatto l'entrata. Ho fatto l'entrata. Molto bella. Veramente molto bella. Alta F4. Ci riprovo, raga. Ci riprovo un'altra volta. E che sto cacchio de mouse. Clicca. Clicca quando gli pare. Clicca come cacchio gli pare. Che amarezza, guardate. Che amarezza. Che amarezza, guardate. Voi non potete capire. Che amarezzona. Che amarezzona. E uno e due. Spiana. E spiana. Demolisci. Demolisci. Tutto demolisci. Tutto demoliti. Demoliti tutto demoliti. Aspetta. Demoliti. Demoliti tutto. No. Che... Oh. Ma è troppo piccola. Oh. Ma è troppo grossa. Ok. Ma famo quella più piccolina. Quella più piccolina. A posto. A posto. Spe... No. 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 Mi ha rovinato. No. Ragazzi. Non se ne può più. Non se ne può più. Guardate che mi è successo. Ma porca miseria. Ma porca miseria. Cerchiamo di tirare su sta roba. Livella. No. Aspettate. Cerchiamo di tirare su. Allarghiamo. Ma porca miseria. Porca miseria. Porca miseria. Porca miseria. Ve l'ho già detto. Porca miseria. No. Perché se non ve l'ho detto ve lo dico adesso. Porca miseria. Guarda quello che sto a fa. Ragazzi. Il mio nervoso sta andando a livelli... A livelli che voi non avete idea che livelli mi sta andare nervoso a me oggi. Non avete proprio idea ragazzi. Non avete proprio idea. Non ve lo potete immaginare. Non ve lo potete immaginare. È impossibile immaginasselo. È impossibile immaginasselo. Veramente. Guardate qua. Tutto messo a ca. Tutto messo a ca. Tutto messo a ca. Deca. L'avvallamenti. L'avvallamenti. Tutto storto. Tutto. Sta cosa qua. Una roba inguardabile. Adesso io metto giù. Come va va. Perché mi so veramente strarotto. Non ve dico cosa. Perché siamo in fascia family friendly. Allora. Mettiamo giù sta cosa qua. Sta produzione qua. E mettiamo giù sto cacchio de punto vendita. Full sale. E chi s'è visto s'è visto. Chi c'è c'è. Chi non c'è. Non c'è. Chi è dentro e dentro. Chi è fuori e fuori. A posto. A posto. Va bene così. Va bene così. Mi va stra bene così. Allora. Progettazione. Paisaggio. Vediamo un po' come. Come progettare un po' tutto qua. Allora. Diamo una spianatina. No. La vernice. Diamo una spianatina qua. Io sto dando vernice però. Devo dare una spianatina. Non devo dare la vernice. Ma che do la spianatina. Qua più tocchi più è peggio. Mamma mia. Più tocchi più è peggio. Più tocchi più è peggio. Guardate che roba. Più tocchi più puzza. È come una cacca. L'editor dei farming è come una cacca. Più la tocchi più puzza. Mamma mia. Per carità. Per carità. Per carità. Per carità. Guardate qua. Guardate qua. Che macello. Che macello. Tutto storto. Mamma mia. Mamma mia. Allora facciamo un'entrata qua. semmai. Facciamo un'entrata qui. Vernice. Progettazione. Paisaggio. Vernice. Mettiamo un po' d'asfaltino qua. Sperando che non sia troppo pendulo. Ma non credo. Cioè sì. C'è una salitina. Ma non credo che sia troppo pendula. Poi. salitina pendula. Perfetto. E poi. Verniciamo tutto qua. Qui deve essere tutto. Ecco. Dove. Tutto verniciato. Perché insomma. È una zona. Questa di. Industriale. Alla fine. Non è che. Stiamo qua a pettinare. Le bambolette. Qua ci facciamo tutto un muro. Ok. Qua. Direttamente facciamo. Creazione. E. Vendita. A posto. A posto. Raga. Poi i materiali ce li metteremo. Pian piano. Carini carini. Carucci carucci. Adesso. Pensiamo. Solamente a finì. Sta cosa. Ok. Qui c'è la strada. Qui. Mettiamo tutto cementizio. Ok. A posto. Poi. Mettiamo giù. Mettiamo giù delle recinzioni. Ci saranno delle recinzioni qua. Oh no. Oh no. Lasciamo tutto aperto. Mettiamo delle recinzioni. Allora. Decorazioni. Recinzioni. Vogliamo dei muri. Che muretti ci mettiamo? C'è l'imbarazzo della scelta sui muri. Sui muri veramente abbiamo. L'imbarazzo della sceltina. Ok. Mettiamo così. Ok. Così. Poi. D'anniamo qua. Così. 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 Eh? Almeno. Abbiamo diviso un attimino. Che. Qua ci possiamo. Oh. Chiudiamo tutto qua. Così. Perfetto. Vedete. A me ne abbiamo chiuso un po'. La zona. Abbiamo un po' murata la zona. Ecco. Posto. Tutta murata. Tutta murata. Qua. Qui ali c'è il terreno troppo ripido. Terreno troppo ripido. E chi se ne frega del terreno troppo ripido. Oh raga. Veramente Steditor è qualcosa di. Terreno troppo ripido. Qua c'è il terreno troppo ripido. Mi ha detto. Ha detto qua. Non si può fare niente. Così. Noi venimo su da sotto. E lo fregamo. Così. A posto. Terreno troppo ripido. Lì. Chi se ne frega. Facciamo così. Guardate. Lo fregamo così. A posto. Ecco fatto che il terreno troppo ripido. Non c'è più. Però scusate. È qua con che c'entriamo? Col triciclo? Che ha bicicletta. Ecco. Un pochetto più largo. Un pochetto più largo. Vernice. Qui. Ok. Così. Cerchiamo pure di. Cerchiamo un attimino di livellare il tutto. L'entrata. Ok. Non credo che ci entra qualche cancello qua. Non credo proprio. Vediamo un po'. Ma penso che i cancelli vanno messi prima di tutto ciò. Vedete. Sono troppo. Qual è il cancello qua? Sono troppo. Anzi. Questo ci potrebbe andare. Questo ci potrebbe andare. Però se dovrebbe aprire da dentro credo. Giusto? Dovrebbe essere il contrario. Terreno troppo ripido. Che peccato che non me lo mette. Sarebbe stato preciso qua. Un pochino più avanti. No. Mi dice terreno troppo ripido. Aspetta un po'. Me l'ha messo. Me l'ha messo. Me l'ha messo. Me l'ha messo. Buoni tutti. Buoni tutti. Buoni tutti. Buoni tutti che me l'ha messo. Me l'ha messo. Do sto. Do sto. Do sto. Ok. Abbiamo fatto un po' de... Però... Ci sta. Dai. Ci sta. Ci sta. Lì è un pochino sottoterra. Però ci sta. Vediamo se riesco un po' a... A livellare. A liberare un po' qui. A sbussare un po'. E che non me fa lo zoom. Maledizione. Noi dovremmo... Non me fa niente. Non funziona proprio. Né giù né su. Vabbè. Ce può sta. Dai. Anche se un po' sottoterrina. Purtroppo non me lo... Non me lo mette. Raga. Non me lo mette... Non me lo toglie. Vedete. Anche se io faccio... Spianamento. Addrizzamento. Non fa niente. Quindi va bene così. Dai. Me lo lascia così. Oh. Abbiamo fatto tutta la zona. Adesso direi qua. Ci vorrebbe un po' de verdino. Per non far vedere... Ci vorrebbe un po' de verdino qua. Ecco. Per non far vedere proprio tutta... Tutto lo stortamento. Lo st... La stortitudine. Per non far vedere tutta la stortitudine. Raga. Coprimo un po' col verdino. Con l'erbina. L'erbina è sempre una garanzia. E tu... Tu gli dai l'erbina. E lui copricchia tutto. Perfetto. Vai e... Dagli ed erbina. Dagli ed erbina. Dagli. È bella erbina così che non si vede niente. A posto. Ragazzi. L'erbina per coprire le magagne è proprio... È proprio l'ideale. Oh. Guardate che bello. Guardate che bello. Che è? Qualche c'è spuglietto. Qualche c'è spuglietto. Qualche c'è spuglione. Qualche c'è spuglione. Qua. E non si vede più niente. A posto. Ti è? Va a vedere la magagniamo. Dove sta la magagna? Non c'è niente. Nessuna magagna. Che è la magagna? Da noi la magagna è... La cosa fatta male. Insomma. A posto. Non si vede niente. Tutto a posto. Primo che dice qualcosa. O bannamo. A posto. A posto. Qua ci mettiamo tutta... Tutta erbetta. Tutta vispa deresa che brugava l'erbetta. E se la brugava... La brugava in fretta. Ti è? A posto. Tutta erbetta. Poi qui ci metteremo qualche altra cosa. Poi vedremo. La vedremo. Insomma. Vai. A posto. Mi sembra che va tutto bene. Ok. Entramo all'interno. E vediamo un po' quello che serve per il compost. Per il compost, amici miei, serve semplicemente... L'erba. L'erba. Quindi erba semplice. Vedete? Poi c'è sto bark mulch che non si sa quello che è. Però noi ce ne fregamo. Adesso vediamo solo quello che sapemo. O il cippato. Il cippato fast. E altro non è che il quick composter. Cioè un... E' una sostanza che velocifica, 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 anzi posso sentire velocifica. Che velocizza il processo di decomposizione. Quindi paglia, cippato e erba. Paglia, cippato e erba. Ragazzi. In più possiamo metterci il faster che lo troviamo allo shop. Che sta in grandi sacchi. Se non vado errato. In grandi sacchi. Dov'è sto faster? Io l'avevo visto in grandi perché c'è una ma... Eccolo. Eccolo. Il quick composter. Ci mettiamo questo. E velocizza tutto. E poi qua abbiamo il punto vendita. Questo è un punto vendita, amici. Che praticamente vende tutto. Vende praticamente ogni cosa. Ogni cosa. Adesso noi dobbiamo creare una stradina. Perché qua io ci vengo col trattore. Però qui, insomma, è tutto chiuso. Perciò devo creare una stradina per scaricare qua. Qua. Devo cercare di creare una stradina qua per scaricare. Perché mi si è creato lo scalino. E lo scalino non va bene. Lo scalino non va bene. Dovrò un attimino combatte qua per dislivellare tutto. Per cercare di creare sto... Ecco, vedete? Dei fai danni. Capito che devo creare io? Devo fare qualcosa per fai danni. Perché se io non faccio i danni, non so contento, ragazzi. Se io non faccio i danni, non so contento. Quindi dovevo cercare qualcosa per fai danni. E l'ho trovata. Allora, l'unica cosa, ragazzi, qua è... Fa questo. Mi dispiace che butto i sordi, ma... Purtroppo è l'unico modo... È l'unico modo... Eh, mi dispiace per... Perché sennò veramente viene una caccata. Una caccata. Viene tanta cacca, viene. Prendiamo il cosino più piccoletto. No, quello più piccoletto. Questo. E ne mettiamo uno qua. E lo cancelliamo. In modo che spiana, capito? Uno qua. Poi... No, più piccoletto. Lo mettiamo per lungo. Vedete? Datemi un attimo, eh. Per lungo. No. Ok, così. Così. Il più là possibile. Così. Perfetto. Perfetto. Poi lo cancelliamo. Perché sennò due insieme non ce ne fa mette. E mettiamoci giù questo. Kicket. Lo cancelliamo. È l'unico modo, raga. Perché sennò... Tiene una caccata. E quando dico una caccata, intendo veramente cacca. Tanta cacca. Ok, facciamo così. Demolisci. Adesso ci dovremmo mettere giù il punto vendita. E dovrebbe essere una cosa più guardabile. Oh, vedete? A posto. A posto. Adesso andiamo direttamente a scaricare sul trigger. Oh, mo' mi piaci. Mo' mi piaci. Progettazione, vernice. A posto. Mo' mi piaci. Mo' mi piaci. Perfetto. Perfetto. A posto. Così magari si è liberato pure il cancello. Chi lo sa? Chi lo sa? Adesso è tutto il piatto. Magari pure il cancello si è un po' spianato. No, non si è spianato. Vabbè, chi se ne frega. L'importante è che si è spianata la zona qua. A posto. Allora io farei addirittura, visto che si è spianata la zona lì, io farei addirittura così. Guardate, ticket, ticket, ticket. Ticket, 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 ticket. Guardate, ticket, 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 ticket. Guardate che faccio, eh? guardate che facciotto guardate che facciotto allora andatevi un attimo decorazioni, recinzioni mo devo ritrovare sto muro qua devo ritrovare sto muro qua ticket, eccolo ho trovato ticket 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 e mo qui è una parola perché veramente ticket ticket a posto l'accorciamo no? accorciamo tutta la zona qua mo è più carina, decisamente più carina la nostra zona ci abbiamo messo un'ora per farla voi la puntata la vedrete più corta ma io vi assicuro che è so un'ora e mezza che sto qui a combattere questo video spero che almeno possiate apprezzarlo ecco fatto ecco fatto anche qui mettiamo la nostra la nostra tattica dell'erba, l'erbetta, l'erbina che copre le magagne hashtag coprire le magagne a posto a posto raga a posto che è cespuglioni cespuglioni come se piovessero che coprono tutte le magagne cespuglioni a posto adotta un cespuglione per amico a posto cespuglioni cespuglioni no è uscito ah ok cespuglioni 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 a posto raga a posto raga la nostra zona la nostra zona eh produzione e vendita compost è pronta è pronta ragazzi è pronta fatemi sapere nei commenti se alla fine vi è piaciuta questa zona tutto sommato è carina fatta anche abbastanza di fretta perciò ci può stare nei prossimi video ovviamente andremo ad attivarla attiviamo la produzione di compost quindi amici miei siamo rimasti con un euro non so se state notando l'uno lassù vuol dire che siamo rimasti con un euro detto questo io amici vi saluto vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video ciao ciao